È dal 2011 che la città di Riccione ospita Cine, la convention delle società di distribuzione cinematografica. Un'occasione per tutti gli operatori dell'industria del cinema italiano di incontrarsi e di presentare in anteprima i film della prossima stagione. Direttore Trocchio, sesta edizione di Cine, che cosa ci aspettiamo dall'edizione di quest'anno? È un'edizione che sta crescendo molto, sia per il business come manifestazione professionale, che oramai si è assestata come un assoluto, forse la più importante convention dell'industria cinematografica qui a Riccione nel periodo estivo. Mentre invece la crescita esponenziale è quello che sta avvenendo sul territorio, cioè una manifestazione che ha deciso di sdoganare il cinema blindato all'interno del Palazzo dei Congressi e di portarlo in città con eventi di vario genere per un coinvolgimento turistico, un coinvolgimento di tutta la città attraverso eventi, spettacoli, anteprime, ospiti e dal titolo simbolico proprio Cine Max.